7 dipendenti dell'Inps di San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli sono stati sottoposti a misure catelari, 3 all'interdizione dai pubblici uffici e 4 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per assenteismo. Tra loro anche un cittadino discafati. I fatti contestati sono stati accertati con alcune telecamere posizionate dagli investigatori sia all'interno della struttura nei pressi dell'orologio marcatempo sia all'esterno dell'ufficio in modo da verificare l'allontanamento. Mentre erano a lavoro quindi, secondo quanto accertato dai finanzieri di Ottaviano, i dipendenti passavano il tempo in cui risultavano a lavoro dedicandosi ai loro interessi privati. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Nola sono stati notificati nella mattinata di oggi dalla Guardia di Finanza. I soggetti coinvolti sono residenti nei comuni di Poggio Marino, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Somma Vesuviana. L'ipotesi di reato contestata dalla Procura di Nola nell'ambito di un'indagine avviata nel 2015 è quella di false attestazioni e certificazioni nell'utilizzo di badge. L'inchiesta avviata a settembre 2015 è stata condotta dalla Guardia di Finanza, compagnia di Ottaviano, che negli atti ha definito preoccupante il fatto che in una struttura medio-piccola, quale quella di San Giuseppe Vesuviano, composta da 16 impiegati effettivi, circa il 40% di loro ponga in essere tali comportamenti illeciti, accertati nel corso delle indagini, che hanno preso ad oggetto solo 18 giorni lavorativi dagli indagati e hanno permesso di registrare 37 gravi irregolarità nell'utilizzo del badge marca Tempo. Grazie a tutti.